Max Vinti che era stato invitato per parlarci dell'ennesimo furto che è stato perpetrato ancora alla Santa Maria Goretti, la vostra casa, perché ha qualcosa di vergognoso. Però siamo qui anche per ricordare una figura importante dello spazio catanese. In questa foto un uomo che ha dedicato la vita al rugby come giocatore di una fase leggendaria. Non giocatore, non giocatore, non giocatore. Ricordiamo che i funerali si svolgeranno domani, lunedì 7 febbraio alle 16 al santuario Santa Maria di Ognina a Catania. Vogliamo ricordare con Max Vinti che era l'amatore della figura di Santino. Il nostro mitico presidente era un papà, perché alla fine aveva un carattere particolarissimo, però quando aveva bisogno era sempre presente. Dispiace veramente tantissimo, fino all'ultimo, anche se stava male, veniva al campo distrutto, ma si sedeva nella sua sedia, guardava la partita. Una persona per me, per quanto mi riguarda, veramente eccezionale. Lo salutiamo e domani sicuramente saremo in tanti a tributargli l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria di Ognina alle ore 16, come abbiamo già avuto modo di ricordare. A Santa Maria di Ognina, cosa è accaduto Max? Intanto una battuta, diceva il direttore, loro si allenano su un campo due squadre, noi cerchiamo il campo per allenarci in un paio di squadre, siamo senza. Sì, l'ennesimo furto, diciamo che dopo quattro mesi che il comune era riuscito a sistemare il campo perché eravamo senza luce, perché si sono rubati il rame, hanno sistemato una settimana e si sono rubati di nuovo il rame. Siamo senza campo, non ci possiamo allenare come si deve perché siamo una squadra di Serie A, con tutto ciò stiamo andando benissimo in campionato. L'ennesimo furto, veramente questo ridicolo che mi verrebbe di insultare queste persone, ma pesantemente di averle davanti, perché noi facciamo del sociale, diciamo sotto la tribuna aiutiamo i bambini bisognosi che hanno bisogno di studiare o di giocare perché non hanno spazi dove giocare. La società aveva comprato dei birilli insieme a delle maestre che fanno volontariato, birilli, piccoli calcetti e piccole cose, comunque giocattoli per bambini piccoli, hanno aperto la porta e si sono rubati tutto. Questa è Catania, anche questa è Catania. Sì, considerate pure che si sono rubati i tavoli per fare il terzo tempo che la società aveva comprato, non si sa come gli escono queste cose. Vengono fatte le denunce, ma i carabinieri non sanno nulla. Si sono rubati i pesi e ringraziamo anzi la Gym Palace che ci sta ospitando, perché non abbiamo nessuno che ci ospita per allenarci, fare i pesi. Il campo ce l'abbiamo solo due volte a settimana, una squadra di Serie A, vedete voi le difficoltà con Under 18, Under 16, Under 14, 12, 10, 8, che si allenano in un campo disastrato come il Santa Melletta è abbandonato. Catania ha un nuovo assessore allo sport, Vaccaro, che è stato nominato in settimana da Stancanelli. Pensi che potrà risolvere in qualche modo i vostri problemi, i problemi del Goretti? Io lo spero, ma ci credo poco, perché alla fine è difficile crederci, dopo tanti anni. Noi è da settembre che facciamo la doccia con l'acqua fredda, perciò mancano tutto, però io non ce l'ho col comune, capisco bene che il comune ha i suoi problemi, ma con qualcuno ce la dobbiamo prendere noi. Perciò cambiano gli assessori, ma non cambia niente. Noi siamo in rugby, uno sport minore, perciò giustamente siamo abbandonati. Sport minore non è proprio sport minore, se consideriamo cosa è successo ieri al Flaminio, nel Sei Nazioni, tra Italia e l'Irlanda, con quella cornice, con quella festa di pubblico. Se voi considerate che da settembre ci hanno reso la tribuna inagibile, non sono venuti a mettere un chiodo, una lampadina, niente, non c'è neanche la volontà a sistemare. Però ripeto, io non me la prendo con nessuno. Però lottate lo stesso, siete quarti in classifica. Siamo quarti in classifica, tutti i catanesi, ci tengo a puntualizzare, tranne l'allenatore che è francese, domenica hanno debuttato due ragazzi di 17 anni, hanno un'età media, perché io mi levo insieme a altre tre persone di 21 anni. Ragazzi, i sacrifici sono veramente tanti. Alla fine lottiamo sempre per far crescere questi ragazzi. L'anno scorso lottavamo per non retrocedere, quest'anno speriamo di uscire fuori dai play-off perché non possiamo farli. Sì, è bene salvarci, far crescere ancora questi ragazzi e trovarci l'anno prossimo ancora meglio. Torneremo a parlarne, Max Vinti, grazie. Grazie a voi che ci date la possibilità di parlarne. In bocca al lupo, ogni commento è superfluo per queste situazioni.